aspettate un attimo no 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 siiii ti sento avevo un amide gli abissi la volevi tu camillo ah frammento di campione malfite ah meglio di me che c'ho cambiando di frammento di campione a mumu io sono l'aco ho trovato sempre tu stai sentendo sto bordello daviano? no qual è? la girella che ho segnato la girella? la girella che ho segnato ah no no ma che se hai segnato sto bordello che lo sento? no lo sento la girella la girella ma credete io che ho sentito la girella è la moscia di merendina no 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 è la canutella la canilla no 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 eh no no basta corrado basta no 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 pepe ma che cosa stai facendo? mi metti ansia perché mi trascono i capelli se fa così ah 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 mi trascono i capelli non ti permette ah 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 me che stai mettendo la ziappetta stai calmo che stai facendo? arrivo arrivo Kane assassino è decisamente più spacchioso di Kane bruiser è vero io non lo so sarei Kane bruiser no? no mi fa schifo è noioso è proprio finale io non lo so come mi faccio in base al loro tema a me piacciono i bruiser ok verifica i mail ma che cazzo vuoi? non verifico niente su un pezzo di mail invidi per favore potete anche invitare no volendo vuzzo vabbè Camillo ma se me ce l'avevo io a dc dai fare così vabbè vuzzo non deve a niente la posizione che sono bravi già subito hanno inviato la partita che ragazzi è fiere oh smetti ma che cosa sta succedendo? faccia dc verbo e allora non mi rompere il cazzo e non mi rompere ma perchè avevo solo una preferenza e che cosa avete fatto? una preferenza? è una preferenza che scegli la possibile seconda preferenza quindi puoi scegliere solo la tua preferenza eh? ma andiamo a... no 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 questo banno va bene? no metti i blitzcrank metti i blitzcrank ecco bravo veloci hai 9 secondi ecco adesso cambia ecco adesso cambia di nuovo ah perchè? vuoi andare a dc? no no che cortesia divino qualsiasi cortesia vuoi un piccone per amico una sella una mortadella ah alla sveglia scusate di svegliare? è mortadella è mortadella alle votate no vengono 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 vengono ti plego è il momento di uno sfoggio di abilità prendere Morgana è il momento di uno sfoggio di abilità McCain sarai all'altezza? merda sarai all'altezza? sarai all'altezza? io fuori non bestemmiate questa è la bestemmia dite fuffapopo è la stessa cosa non ho capito la siamo su twitch? ma porca fuffo si si percafofo karen e che prendo contro karen? timo? che ora? timo? ce l'ha fatta di mozzazzà come scusi? si certo che ce l'ha fatta però devi stare molto attento ma che fai? devi essere il più bravo di lui ah ma lo sto usando camillo tutto apposso la luce ci guiderà allora mi sembrava che lo stavo usando a vuzzo e ora di spruzzo siamo senza tank però ti preoccupare timo lo devi fare tank certo il tank invisibile il tank invisibile è più tangoso di tutto il vento porta bruciando il timo no? no no certo ma timo è elfo felice o ricognitore? ricognitore no elfo felice no io felice no io felice è un astronauta no 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 è felice è felice sono felice sono felice è felice oh f***a bianca oddio si banneranno a me? a me a me mi sentiamo quel giocatore quel giocatore che compariva con il nome di Icebolt 93 bannatelo bannatelo perché dici sempre cose brutte? riportatelo sempre sono le tre e trento devo fare due tre partite strega morgana che anche tra parentesi tettona dovrebbero mettere bravo effettivamente stanno esplodendo anche a timo eh però com'è la fiora preside? dici il lukepp avevo il righello che era la favola ma lui che c'è la schimmuratura l'ho trovata dopo che ho visto che sono eccessivamente potente con quella spacchia di fiora me la sono felice bravo ho spaccato Nami degli abissi che era anche questo manco Icebolt e Igarot che bravi mi sta caricando anche l'avversario non è 100% veramente manca solo Camillo manca solo manca solo manca solo addio ma allora forse forse quindi sono due premade sicuro no sono tutte premade eh infatti potremmo tutti certo eh ma dut ma dut ma dut ma dut la volete lo sfugo non vi preoccupate voi ascoltate me che first time game che perderemo sicuro Camillo ti ricordi ieri come ha fatto Kytlin con te Kerydarius? si si devi fare la stessa cosa con Karen peggio bravo non la devi fare respirare dai Dabiano che cazzo ti sei preso per cosa scarso a proposito la Q la devi conservare come le noccioline dei castori si si vabbè ma fai le puppette basta basta ora ci faccio i video che vince bordo fai le puppette eh quando quello si attiva la il colpo forte che ti silenzia tu lo devi fare con la Q si si vabbè se fai in quel modo eh si certo ok ma ragazzi se potete essere reportati basta chiedere dai la carta Riot please report please report please report Igor for far rassare mass report ma se buzzo perchè non hai microfono che cosa non lo so è condiviso homo homosexual esatto funziona vedete come sono bella bella io lo so è fighissimo ma si lo so ti pentite eh te lo sei preso orlo orlo o il talisman o il talisman o il talisman e tu lì 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 cosa è iniziato con la cuore ci pare sta moga è preso un danno di torre dottor come entrata ok vieni qua cammo, mi è invisibile qua, quasi sei più veloce qua, è tutto stupido 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 grazie cammo prego, guarda sento smite, si immunizza è un cammino scuro minchia ma che cazzo di danno fa? ma non è normale aver fatto tutto questo danno? ma chi? che in? bravo e pepe ha potuto un zing no? già ce li stiamo calando sin dalla giovane età è imbarata ad accettare i problemi e se gli fanno qui ammazziamolo lo so aspetta ora riprendo mi ha fatto scadere il bonus si sono allondonati ma se è chiaro che fa la rotella e io faccio l'assurdo lui mi prende? no ti prende lo stesso, certo pericolosissima la rotella la rotella perchè non si accontenta? pericolosissima la rotella pericolosissima la rotella pericolosissima la rotella era un po' diverso però va bene ok garen è passato Evelyn metti la ward per favore mi c'è Evelyn dobbiamo comprare una pring per forza mi chiamano sottendicato a prendere la ward ma che la compro io qua rispettativa c'è passo i muri anche senza la E ho capito bilanciato molto bilanciato vabbè ancora Evelyn c'è ancora livello 6 non è invisibile è vero bravo hai ragione ah tanzimia tu cosi? ma ma vetti ma che cazzo hai fatto? e che frequenta le persone forte sono guardato il video con la presentazione e poi Evelyn mi è piaciuto cosa ti è piaciuto di Evelyn? raccontaci il buco di penetrazione magica la penetrazione? no vedete tutti i pushati siete troppo forti non lì io vabbè tu sei scarso tu mi sai che ci muori qua minchia il piccolo colcino pio come ti senti Camillo? bene? ehm pranzi che ti sto per gangare se tu lo fai pushare un pelo pelosino arrivo mio piccolo milk sono qui mio piccolo milk arassalo mio piccolo milk arassalo milk shake flashata vabbè vabbè peppe altra guarda nel boschetto il boschetto della mia fantasia sto tornando peppe che mi guarda vai 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 ho snowball guarda tu ho snowball mio te lo stumo che tu lo dice vai vai vieni tu brecchiamolo devi dire stumo c'è l'amico c'è l'amico c'è l'amico c'è l'amico va bene ti metto nella torre aspetto te che vieni e poi vado a comprare le cose ci manca Gheron ma la storia di baffino quanto è scomodo ulti sei morto quanto ha di ricarica la corsa di Gheron tanto o poca la pozza la corsa la corsa la corsa la corsa poca non tantissime insomma ma non è quella che si dovrebbe maxare come fa si invece ma se vabbè si vabbè se vabbè se vabbè prova a ritornare dopo visto che non ha un cazzo ma ne sto andando io arrivo arrivo è immune alle cose vabbè è Gheron che è scarso che è scarso che è scarso quei gang seri sono questi mica quelli che fai tu aspetta il primo tempo quello che avrà salvo che c'è di gheron dai che gheron è tutto ok cazzo 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 pescami il co vai 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 immobilizzi immobilizzi che facciamo beh no no ok cazzo ti hanno fatto è andata è andata hai mancato l'immobilizzazione eh c'erano i minion non potevo fare eh lo so devi spostarla occhio fuori 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 corrado vieni della prendere vieni del primo perdono eh te l'ho lasciato con pochissima vita se non si trova la tua va a cagare ho sbagliato a tirarla va a cagare ma mi funziona il mouse ora si il momento è giusto per non farlo funzionare manca a gare qui ragazzo che vedo non devo mancare no beh però sei support non sopporto non sopporto un maledetto attenzione oh nemici nemici no vattene 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 ha po capito ho un boss arrivo è pochissimo è morto porca miseria pebbe porca miseria ma l'ho stunnato dov'è Erina? l'ho aspettato che ti sei fermato l'hai stimolata benissimo però ti sei rimasto là è morto è morto è morto la sconfitta è solo un'opportunità per brillare ancora di più in tutto questo non neanche ho pranzato come si fa per un pranzo quel cazzo come non hai pranzato? no ho mangiato un cornetto un pochettino tardi un cornetto Nutella ma non ce l'hai fatto wow un cornetto Nutella e cappuccino wow un Nutella e cappuccino ma questo ti piacere che Camillo è bello potente ma il cappuccino è un bel spaccatera bambino spaccatera ma non è slum ha de vola ti scippa la destra proprio ma è poco diretta ma è poco diretta pulcino volevano ammazzare a San Vozzo e non hanno capito niente eh mi sei fulio che c'ho avuto con questi due ma poi c'è un zigno no? non è fulio quello è bravo a te Camillo 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 vai tieni tutta tua entragli dentro che ti piace sta venendo Zed sta venendo Zed ci mette il ciuffolo muori troia ecco vabbè ho preso l'assist sto venendo Savo no si è cagato tutto faccio subito le scarpe così penetro e vabbè a facci ti dentro facci che tuo amico la stellina vengo da te Camilla ehm Camilla? dimmi vuoi che vengo? cioè io sto ancora arrivando che andiamo indietro? sono quasi arrivato ok vai 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 no 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 porco l'ho ammazzato come cazzo ho fatto come ho fatto questo ma sono da tutte e due se quello non c'era lo scudo era morto tutti e due aiuto quando è stato giustamente per caso dobbiamo fare il doppio uccisione ce l'avevo in cooldown lei me lo faccio come supporto sarà un pochettino troppo aggressivo ah ma l'abbia è bella ora sono io il padrone dell'ombre va bene no sbagliato grandissimo grandissimo hai detto sbagliato quello ci ho chiuso la strada con una banana di quelle pazzesche demora mi sta a z ah è qui ok qua c'è garlanda ora arrivo a bonus da dove arriva lei non me dai damiano dai damiano oh oh chi mi aiuta chi mi aiuta non c'è nessuno vede che ti dava serie di uccisione che è morto eh molto molto l'ho ammazzato ma siccome avevo capito che avessi detto zed è fiddato eh si perchè ah no c'aveva like 3-1 c'è mi fa male il braccio mi ha giocato bene con lui eh mi ha giocato bene grazie dai mi ha raccomentando ma li fai complimenti come premio diruppo il farm come premio come premio un'itero di funghi no se ne è da bianno vedi a meno una kill se ne è da bianno a meno non facevo un merda quanto cazzo dura quanto cazzo dura che faccio che lo sia sconvolgente che non posso dirlo meglio madonna di nuovo è più forte sta arrivando ma dura un bordello con lo spacchio di stunno ninja tabi altra vita vita oggi camillo è tranquillo si si, a me non mi piacerebbe non esco il tirato perchè sta solo un tocco d'oltre si ma lo stai stupendo ma ah ma evelyn non ha lo smite lo volete un drago? si, la corrado? non direi che sarà più una domanda corrado devo solo stilare e poi vengo a bongie corrado mi servirebbe il blu te lo puoi prendere quando vuoi arrivo a bongie ragazzi perchè non venisci da corrado però è venuto usato tre volte le liga schifo le mie cose per cortesia divina che cazzo vuoi coglione ristare arrivo salvo grazie Io sono ulti comunque Ma lo invece che stiamo ultimi E a te, a te, a me E' fortale E non deve selezionarlo Non lo so Vai 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 Ma perché non mi fai entrare dentro? Dentro dove? Dentro il corpo Dopo che è selezionato Lo ho danneggiato Ma puoi entrare dentro Evelyn, vedi che fidanzata? Si ma quello voglio Puoi ti comprare un distanzato? Non potevo fare per di così solo No no no, ma so io che non l'ho posata E' qui? Ma chi? Gesù? C'era... un fantasma si era fermato sotto i miei piedi? E' il puttana? E' il puttana qui Eeeh, puttana è E' forte E' una kill che può diventare musica E' bestemmi Perché c'ho la spada di sopra? Il jungler sta venendo un bot, sicuro Stai a fastidio con la spada? E' un po' ingretante Stai a potogliere di andare da guarda in fattima Arrivamo mid No, non ci crede E' un po' ingretante E' un po' ingretante Ma porco il cazzo! Non c'è la guarda E' un po' ingretante e' un po' ingretante E' un po' ingretante Ma per ora va bene Dovu'è il Blu? Ma porca demonio, grazie Non te lo do Non te lo do Non te lo do, lo smite Vabbè ma porco cane perché la mia non prende ma porca troia amare e già sembra porca troia dove dalla miseria come cazzo arrivo bot mi fai entrare dentro il tuo fottutissimo corpicino di merda non ho detto che non c'era più perché gioco con voi io non lo so dimmi io sono morto damiano concentrato non mi faccia ammazzare più anche intanto camillo almeno intanto camillo entra in vado con il piacere io credo che ora non ci dà camillo io credo io credo qualcuno mid rato ti metto una guarda pozzo camillo è appena tornato va bene ora me lo faccio penso evadime mi ha fatto una bellissima lo sta facendo a zed mi ha rubato a tristana vedi 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 questo è un corrato avversario è vero io sono un bravo quando? e quando è successo? è tristano oh 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 vabbè dai vengo a aiutarti io posso sciamed questa puzza non c'è Dove c'è cosa? Non so dove si è a Garen ragazzi E' Garen è qua Io penso io a Garen Sta venendo Garen Ha flashato male Bella salvo Bella salvo? Eh veste Ok siete soli Non c'è la torre C'è uno che ci spuglia occhio Eh vabbè paura e scende maledetto Ma che cazzo c'è Mori a Zer Ok Occhio salvo lì c'è giudino No dovevi lasciarli dentro il bus No No non ci vengono contro casa No non ci vengono contro casa No sarebbero venuti Si fanno il dragos Dragos assassino Oh cazzo Io non sono fidato Tra venti secondi con l'ulto Tra venti secondi con l'ulto Tra venti secondi con l'ulto Eh Ah sapi cosa so Devi fare damage Io vado top prima che ti scoppia Anche mid mid Qui c'è Zed Per caso Ciao Zed Ti penso che mi scoppia Ecco Qualcuno top Carusi dovete difendere la foto Che sono top Penso io Sono già qua Sono 28 Io c'ho l'ulti eh Io c'ho l'ulti eh A livelli in meno di me Non lo spiegare su Garenne chiaramente Zed è botta Da qualche parte Penso che mi sta prendendo la dietro Evelina se n'è andata Bella sta Bella sta Bello sto flash Penso che Zed deve sta prendendo la dietro Penso che Zed deve sta prendendo la dietro Arrivano tutti Porca troia Ma porca troia Aiuto Evelina Matta Madonna Evelina 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 La luce non muore mai davvero La tua torre è stata distrutta Ho sbagliato perché Minchia mi devo ricordare degli oggetti che ho A volte non ci penso Mangiatevi il cazzo E voi coglione Morgana ha scritto Mangiatevi il cazzo La luce di si è diventata più vada Evelina 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 Tempo la mia lane La mia acqua fa più danni Ma perché la vede qui Camillo? Eh l'ho fatto prima Non ce l'ho Però se nessuno si è accorto Camillo vieni Camillo vieni Vado top a spaccare quella cosa Buon bambino Ah c'è gara Vecchio bitch Quello che fai Oh da che c'è che bello Che bello questo baffino Ehi E va bene Si spregano gli ulti così A gratis Via Via Che volontà Oh da che c'è Eri gara ce l'ho con me Oh oh Ok ce l'hai con me Ce l'ho con quelli che contano da su Oh Kain Ok me con noi Camillo Che fai scantando? Ok Che fai scantando? Ok Che fai scantando? Oh Eri gara Stai fai scantando? Poi scantando? Oh Fai scantando? Sì Certo Fai scantando? Sì bello stuonati dove? bello stuonati dove? vado quando è rimasto i romini madonna vuoi il corrado ma cosa cazzo ha fatto? certo ho sbagliato vabbè se l'ha fatto indireggiare credo credo per questo time è più forte di tutti eh a decino a decino è immune le magie eh ciao babbo babbo ero morto fino a... babbinozor madonna ma come è che si piuttosto non dirino male che è morta di sicuro non hai sbagliato sono entrati in base ne vuoi scrivere un salto fanno scrivere sempre sempre è possibile mai sempre top 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 posso fare così schifo con la ulti direzione si top camillo dove sei? ciao valore al piii peppe stai rizzando? tutte le partite che abbiamo fatto non morire più mai perchè stai morendo adesso? e che cazzo ne so che compai di dietro quella buttanazzo? si ho tutti non c'è ragazzi non so dove siano ma non mi piace eccola eccola la cuo fa più danno dello smite sono tutti italiani i ricetti sono premiti con cuore c'è pacco 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 tristana di merda me lo senti esplodo orca troia me lo senti esplodo dove cazzo è quella troia ma un culo ehhh la madonna vogliono il barone vogliono il mio culo cavallo perchè sei sempre solo? io ti amo ci puoi pushare ci puoi pushare ma perchè scrivo un messaggio? me lo dici perchè scrivo io non lo so cazzo mia per te non lo vedo che sia i messaggi entra dentro quello bombè bombè fuori fuori a fuori te la vi ater via sta a guai ora dove Wakil? a ma mi ammir dove Wakil? Dalla torre Mi hanno recuperato Il drago Caello perché sei di là? Non sono mai... Ragazzi se io li vado addosso Eeeh Eeeh Sto parlando anche con te Mi viene rastronato quella zuccoletta Io stai morto qua Occhio dietro Come un allenatore si da fuggire E chi arriva mi fa le chiudere Ma quando l'ho lasciato? Porca puttana Oddio La tua squadra ha distrutto una torre Corrado è tutto pazzo il Corrado Ma che cazzo fa? Che cazzo fa? Che cosa combina? Che cazzo fa? 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 andiamo occhio dietro occhio dietro dietro ce l'avete tutti no ho pizzato carusi e io sono stato ammaliato e io mi lasciate tutti solo camillo che cazzo fai e pedo che sei stanno andando a casa ma Vabbè confidiamo gli ultimi e torniamo Cristiana dove fai? Eccola eccola Non c'è noi buono Sono gay Non so ora dove sei gay Speriamo Ma che è che ho fatto per la resa? Ma che ho il centro Se siamo tutti Se mi aspettate Quanto leva Perché state ingaggiando? Siamo tutti i moni Occhio Ma l'hai fottuta Camillo Io ho fatto una scuola E perché gliel'hai fatta Se era da dentro Perché tu non è da dentro In realtà Sei andato da dire Sì sì Vedi va Vedi va Quella vuole entrare Io non capisco perché Prima lo attacchi e poi te ne torni E poi che fai? Ci ritorni Ma chi? Ma chi? Ma Pepe Camillo è lontanati Non devi andare mai così vicino Chi è che fa questa cosa? Un alberato è stato ucciso Supero gli allinei Un nemico è stato ucciso Per Zed in balza Duco è arrivato Tu sei malato? Tu sei malato? Tu sei malato? Tu sei malato? Tu sei da tua casa? Sì L'ho inventato io E tuca duca? Sì Sto tutti in call down Sto tutto in call down Perché è tutto in call down? Vai vai Che ho leggia Che è scarso Dai ai Perché devi fare il suo più di salvo? È arrivata Sento Camillo che c'è Zed in giro Ne so Camillo? Sento Camillo che c'è Zed in giro Sento Camillo che c'è Zed in giro Sento Camillo che c'è Zed in giro Garenuccio Garenuccio cioè Va piano Ma cosa è che ti ha fatto quel male? Io non lo so No non lo so C'è non lo so C'è la tua scala Ma che è pure Garenuccio Ma che è l'uomo? E' l'uomo? Da niente Ma che è l'uomo? aiuto aiuto vabbè ammazzatela dopo ammazzatela dopo a poca attagli a CZ non ti resta di me a porco dio che stanno in mente vai fungo del cazzo nooo l'ultimo colpo non fare così ve lo giuro dopo prendo un personaggio che so usare quando provavo sindaco me dicevo ma che ne so contro camillo vincevo di giù colpo fate colpo fate guarda che scappa non si sta cacando non si sta cacando se voi mi poter non venire mai a fare le cose no ma gli serve la penetrazione il bastone ma lui è stupido non conviene farsi tutto lui non deve attaccare il gaga se staccano tutti sono facendo il bar non servirebbe nulla sicuro che sono il baron o sono il drago no infatti sono il drago sono il drago e facciamoci il baron e dai se allora vogliamo fare il drago oh oh nemico sono il drago sono morto sono morto sono morto che cazzo che cazzo che cazzo ma vai cacare hai incontrato il meccanato sono sbagliato finito non era per finirlo era per recuperare vita ma ma se lo vedi che anche c'è stata l'agicchietto e' l'agicchietto è ben niente vai tamiano non è entrato in girozzetto, ti ti faccio ma che cazzo ho fatto? si si che ha messo o no? io l'abbiamo già perso, l'ho detto io l'abbiamo già perso prima, quando l'avevo detto io saldo salverà tu cosa? è Damiano che ha affidato a quella, è inutile eh, Peppe guarda, fai zitto e salva la faccia che è meglio no, guarda, guarda, sei colpatore perchè io eravamo ucciso due volte, era 2 a 0 lui si faceva formare e poi Dio da per fortire me e mi ha ammazzato la sapete, ricco vedimi ma come cazzo io non muore questo proglie? e' messo la smetti di prendere la scuola, cioè smetti di prendere la scuola smettila eh, ma scusa, ma lui putta la prendere la scuola smetti la guarda non lo capisci, non lo capisci io devo spaccare in testa sto aario glielo fai stare Peppe vinto per favore? non lo voglio allora come facciamo? io ho onorato salvo, salvo onora io ho fatto onora a Corrado allora salvo onora no io ho mai onorato a Corrado a me non vedete le cazze a me non vedete le cazze si ma Damiano sei morto 14 volte sei scandaloso ma salvo salvo tu è che è onorato io sono stato quello che è morto di meno voglio bene ah quindi a me è in dolore ragazzi io devo andare devo uscire con la febbre ma sei morto 14 volte hai dato hai dato mi hanno ottenuto di prendere Luciano io non mi richi proprio niente io il botto non ci sto più va bene tutti i mid che cazzo avete fatto? dai facciamo così perché non lo facciamo casuale facciamo qualsiasi no no grazie no vai a cagare io non lascio usare di giungla aspetta che troppo forte quel cazzo di chi sta morendo speriamo vai a Damiano fate trova partita che bello giocare in giungla stima 0.00 seconde superiore che brutto che brutto Peppe ne hai un altro support? no io uso questo per me prendi suona Peppe Peppe no mi fa schifo allora prendo cosa tu sei sicuro? ma perché mi avete preso il mio campione? pezzo di merda no ve lo banno ve lo banno ma Peppe uno a caso che sta scadendo no si è bann again così no Darius no Darius se no Darius se no Darius prego per primo io lo stavo per bannare Camillo tu perché non lo dici ciao Camillo no se il main digger è top mi dispiace mi devo pigliare ahah lupi tu ti prendi ma con anima ti faccio stifo la merda vai è il tuo main vai non dite cazzate quanti main hai per 30 tutti i gambioni sono tutti i main c'ho main si sa man maniac maniac si no non lo sopporto l'immortalità grazie Gesù grazie grazie guarda ti ho droppato ehhhhh ehhhhh tempri non è primo tra l'altro la abbiamo accertato io lo stesso perche? eh tanto c'ho Iasu eh no Ma ci farei perdere di nuovo ma ma perché Se dobbiamo trollare trolliamo bene a questo momento no? Ma anche dobbiamo trollare? Non ha trollato nessuno scusa No Peppe si invece Ma vai a Damiano! Dai Damiano! Non ha affidato solo Damiano, abbiamo affidato anche io, anche Peppe Vabbè io devo quello che è morto di me No ragazzi io vi chiedo scusa invece perchè a Gangara per adesso Eeeh Peppe fai top Che palle! Uh non ha neanche bannato perchè è troppo forte I tizze me l'avete bannato Rendi coso? Vi fai vedere Orn come funziona? Ma non lo so giocare po' No Non vedevo, non ha se siamo sicuri Non ha se siamo sicuri Sarò sempre da Camillo, vaffanculo tutti gli altri Ecco qua Eh beh... Peppe Peppe vai bu Che vuoi? Peppe curati Che vuoi? Io sono su... Io sono su... Io sono su... Io sono su... Ma che dici? Ma che dici? Fa schifo Madonna... Meno te che non lo debesci? Non è dito che vuoi? Se ma fa il ttop come penso Ti è un pezzo di merda Scusa Peppe Scusa Peppe Che è un pezzo di merda Che si prende zona Prende Morgana adesso Ora fa il ttop Guarda Porterò il dolore Ma ti deve riportare... Dopo non devo escoltare La riportare Peppe dopo devi riportare salvo Ma oh io lo spesso prima Non mi ha risposto Pensavo che chi tace consente Oh 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 Vabbè la morte giungerà a breve Qua la prima volta che scendi in Sicilia Ti porto a casa di Peppe Allora preparo la vasca Non mi fa cambiare più Lo sai vero? Io ho messo lo smite Tu trovo tu... Manchiare come devi confermare Morgana Ti spacca il culo Morgana Tendi A Morgana Comunque fa un cordello di danno che Anche se è danno Rrr Rrr Allora, Evelyn, no, di nuovo Evelyn, la dobbiamo bannare, dobbiamo ricordare di bannare Evelyn. Non lo faccio a Sessina stavolta? Ah bella, nella città shulimane di Nash-Ramai si tiene una festa che celebra Rammus. Migliaia di persone a corrono e fanno le capriole in giro per la città. Non lo faccio a Sessina stavolta? Sì, sì. Dipende come sono gli avversari. Tu come te lo fai Damiano? Io sembri a Sessino perché il tank non lo so usare bene. No, tu te lo fai Tango. Non lo so usare bene, bene. Va bene. Io vorrei farmi Sessina dopo che abbiamo Yasuo, Lux e Morgana. No, 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 va bene. Sessino. Ma Cucu, con le blanche che non si picchia, manco se creo. O Evelyn che non si vede. Non vuoi? Perù pure. Molto magici. Se la faccio il mini magici. Bellissima, è per il. Camilla. Eh. Tu non sai che io ti fai. Adesso lo bevi, guarda tu. Quello che hai fatto, adesso lo bevi. Madonna, te me lo hai visto tutto, tutto, tutto. Sì, sì. Marmanna. Marmanna, attenta il punto di guardare. No, no, io non ci ho pensato. Sto immaginando, basta. Ho cercato di non pensarci. Madonna, io ero in bagno, quando tu lo guardavo. Se vede questa scena e dico... Ma c'è, è troppo brutto, troppo brutto. Non che quelli prima non fossero brutti, ma proprio quello. No, no, quello è terribile. Maria. Cosa mi faccio per prima? Lo stun? La pallina. Io direi la cosa spera, così... X-Men, se puoi ascoltare uno che era main, margana. Vabbè, l'ho sbagliato già. Cosa hai fatto lo scudo? No, va bene tutto, Beppe, va bene tutto. Camilla, mi devi dare. Ma io non ce ho voglia. Ho tanto, bravo. Io sono Ducan Puntenasus, quello che voglio. Che brutta Luxu, yeeey. Non togliamo. Io ballo. Lo tengo caldo. 30 secondi alla generazione. Ho messo il titolo di Twitch, Luxu Support, e me l'hanno rubata. Guarda che sono. La prendo io Luxu, perché ho quella serie. Ma che devi fare, quella cosa schifosa. L'importante non è la skin, lo sapete. L'importante è essere buona me. L'importante è Derem Melux. L'importante? L'importante è Derem Melux. La cosa che fa danni in base alla salute massima del Versailles. Ma se rimane normale, che succede? No, niente. Però perdi cose buone, cioè. Sei decisamente buffo. È un peccato. Sì, perché ad Fav, uno fa malissimo e c'è il raggio più lungo. Ero lenta. Che immunità. L'altra butta in aria. Fatti assassino, Sorra. Cosa? Fatti assassino. No, no. Vediamo, se snowbollo faccio assassino. Caeta. Parli con me. Sì. Però non lo devi fare, Camillo. Ok. Che bello, molti duttori, oggi. Beppe, devi colpire gli avversari, cosa ci vuole. Fò, inventali. Inventali. Vabbè, con me però gioca bene, forse. No, Beppe gioca bene contro di me. Contro di me gioca benissimo. Vero, Beppe, di io. Vedo le due mosse. Vabbè, mi cadete di minchiato, Beppe. Davanti. Ci faccia la testa. Sì, che passa la casa, c'è di dire. Sì, loro giochi, l'è. Dio. Sì, puttana, li vedete? Buon lavoro. No, non ho mai riuscito. Sì, perciò. No, non è. No, non è morto. Sì, bravo. Lo vuoi trovo, lo vuoi troppo, lo vuoi troppo, lo vuoi. Lo vuoi troppo, lo vuoi troppo, lo vuoi troppo. Ti capisco. Ti capisco. Ti capisco. Ti capisco. un muro ancora non sono pronto bravo fai i sordi a maestro zed ha detto sembrando che esce prima delle ombre capisco da una ombra questo è così cazzoso la volete una manobot si si ok posso fermare questo dg che bello vieni vieni ancora venite subito io sono senza vita non mezzo non è che cazzo mi ha fatto venire a te che ne fai di ombra ok vabbè ma dai bella bella va benissimo così giocarsi sempre così ma il gioco sempre così ma che si deve a me cucina guarda guarda che cazzo ma che non è SKT che no? non lo vuoi dire aspetta ma che non è SKT SKP SKP oh cacchio no no Camilleone è illusione ottica ma ma che ne cazzo quando lei mi fa mi si fa innamorare eh ti deve ricolpire con che cosa con qualcosa si si roma con qualcosa si roma e se non mi colpisce che succede? che non ti fa un cazzo non rimane il cuore e basta eh mi lo tu non pensi che stai formando tranquillo ma Morgana recupera un sacco di mana io teoricamente ti posso lasciare anche in pace ma la recupero in mana perché vado ma Savozzo? che sta facendo? pagando che recupero in mana è più di Luxo di Regen eh poi per normale non ho capito Vuzzo tutti attacchi invece di Morgana no no volendo attacco attacco Vuzzo? dimmi vuoi un Nanko? no però no tranquillo sto volendo vedo il mana attenzione chi è? amico è quella che diventa invisibile muove andiamoci andiamoci va bene va bene va bene va bene torno bot oh c'è Evelyn qua perchè non seguito il bot? eh? non seguito il support viene salvo doppio flash non si ci siamo organizzati ah ah è più importante è portare a casa porta a carlo no c'era un minu di merde davanti ti faccio di fare cosa questo si è spostato giusto da quel momento si è spostato camillo sto arrivando è spostato in milo resta giù cosa? perchè da me? che cosa non mi vuoi? non c'è bisogno meglio che aiuti qualcun'altro io sto prendendo da titolo ok mi vedi? si si puoi ingaggiarlo eh? vai non è male ok lascialo lascialo però se devo usare i flash per farlo lasciare dai avevo quello che scappava poi io ho fissato in un cuore per questo uomo niente 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 caro vai vai niente che qua già non più questo senti salvo per gli energy quando vuoi camillo camillo fissi bene viene andato un'altra guarda Beppe prima che arriva quella stavolta le ammazziamo ho 84 stack mi vedo forte eccola infatti SS energy andiamoci addosso mi sa che sta venendo qua nessuna pietà è invisibile oh le plank top no non è invisibile è si che ho visto ho visto è livello 5 arrivo io pensi invece sei andato non si accion boh va bene prendo appena prendo l'ultimo abbiamo vinta la legna via che c'è il malfy eh no che fa ma mi metto a tenare non mi metto a tenare non mi metto a tenare niente è successo mi ha dotato a tenare non mi metto a tenare va bene non no hai l'ultimo Allora mi si deve riempire un po' con la falcetta Oh, sto perdendo Starch Oh, mi freggete questa per cortesia che sto tenendo Vabbè, tanto che ho vinto Ha fatto un doppio danno, sto po' se cazzo è un assassino Qua manca martite Non hai letto come si trasforma la passiva? No Divente l'ulti di Z della tua passiva Ah E io devo difendere sempre le lane degli altri Tipo santo su Cosa vuoi rimaxare dopo la punta? Damiano Chi sei tu? Vai eh Non lo so, non mi ricordo, controlla se il rallentamento aumenta Ma non mi fatti la pozzetta Io aumenta Aumenta meno Sì Oh mio Dio Ok Il bambino non c'è più, il resto solo l'assassino Sono fighissimo come la marda Ma quello era un bambino? Ah, nei primi 3 secondi del combattimento con dei campioni Lux è morta Il 25% di tutti i danni inflitti ai campioni come danni magici Bonus Va bene Sei d'accordo? Dov'è Lux? Oh, sono velocissimo Mangia FURIA Ma è da magiii 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 La mia trattura comincia con un intento E' zitto se la pensi diversamente FURIA Grande salvo Condividi il mio tormento Piano perché non mi aiuti Grazie Buono lo stesso Puttana La troia Camillo vedi che forse fa me ne dovete Sì Che cazzo Che cazzo? Più mana Bella Camillo Porco Dio Facciamoci il drago no? Dove dire porcafuffa Ma che è il drago? No, non avrebbero No, non avrebbero Capendo Camillo C'è... Le blanche, c'è le blanche Camillo Camillo lo devi guardare o no? Non posso Non posso Mi dovete aiutare poi poi dalla mamma Questa è un arco Capitane Capitane Torni indietro Torni indietro No, non mi avrei C'è il drago No, non mi avrei Vabbè Mi vado a sfondare con la mia tour Torni indietro Torni indietro Torni indietro Mi sono fidati Una checca Nessuna pietà Non mi permettere Minimamente Ma con chi sta parlando? Con te Come va con il Jasmo? O uno sembra lo deve fottere Ma Damiano non fotte mai niente Bugiardo Miei tutti miei Avrò la mia benvenza Oh Oh Valore al fin Un nemico è stato ucciso 162 stack Dove nemmeno sono un bravo Ah Non perdiamo tempo Ho sbagliato a mirare E' malfite mid Chi l'ha visto? Ma chi l'ha visto? Addirittura Inche Usare solo qui si risuopre la mano Addirittura Farmerò come una Ma 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 200 stack Salvo che ne dici di tirare in aria? BOOM E io non tiro nessuna Forza sbrigati Se vuoi te la blocco Eh? Se vuoi te la blocco No no in aria in aria BOOM Grazie Te lo salvo BOOM Oh Oh Eh 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 Oh che fai la immobilizzi Ok Si bravo BOOM Non si scappa Avanzi 3000 gold In momento di tornare Andare via Cosa Cosa Qualcuno mi vuole Eh Sei morta troia Ok Che c'è ma chi ti so con di te Non ti sta cagando però Ok Lo stesso Ok Allora Trinity Vedete che la divisa magica è apprezzatissima Quindi Subito Corazza Perituale Oh Gesù Arrivo Corre Scappa verso su Non è vero Sei un noob champ Qualcuno fa troppo danno Ma tanto tanto danno Ho detto Che bello Secondo me è molto più forte L'altro eh Ah si? Però Anche io non devo dire che È bello Vabbè perché questa è la faccia dei tank Capito Peppe come si usa? Sì vabbè Ah Non se lo uccido fa stu cosa Sfa ti pare Muto Eh? Dai zitto Povero Peppe Ti dice queste cose Bravo Caruso Ti fa andare su Twitch E tu cosi lo ripaghi? Eh? Ho ragione C'è grande il lux Eh? Aiuto Ah è il drago Il drago Il drago Il drago Il drago Il drago Che bello La tua squadra ha distrutto una torre Faccio faccio che draghetta Oh Asche ciao Ciao Ah c'è Asche? Ah Damiana ciao Poi Vabbè Oh Asche ciao C'è stato fatto tutto Non era solo Asche Ah 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 Damiano Mi ha detto che non sei altro Ho adesso solo Asche Non ho a base Non ho a base Non ho a base Ne sono venuti da dietro E mancano alcuni Io voglio un colpo di Asche Oh cazzo Oh cazzo Oh cazzo Vai Beppe, doppia uccisione! Bastarda! Eh, il drago ora è un problema Perché è un problema? Scusa Perché sono tutti qua? Eh, vengo io? No, andiamo Doppia uccisione, triple uccisione, quadruple uccisione, via! Arrivo 150 stacchi, pass Ragazzi ho vinto Ok, bravo Camillo Buonasera Camillo Camillo No, se lo fa, se lo fa No, peccato Va bene lo stesso L'ho capito Però se tu facevi risettare le Q scappando e poi lo colpivi tipo ADC vincevi facile Non ho capito Dovevi scappare per aspettare la ricarica La torre No, 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 la torre Ma che cazzo Ma vabbè, si può il lag pure Vabbè Perché? Perché ti aiuta molto Da velocità di movimento Ti da Ehm Come si chiama Quei fantasmini che rallentano Da tanta delle cose Rigenerazione umana Secondo me Ma secondo me Non è meglio Stapo, vuoi vincere oppure? Non lo so E' là Ma vede pure in giro, capito? Ma chi? Tu Perché? L'hai preso in giro L'hai mancato tre volte O sei scarso o l'hai preso in giro Scegli Ehm Vinto Nessuna pietà Ma anche se è troppo snobolato rispetto Le blanche Oh, c'è una word Ma quelli sette uccisioni Hanno... Hanno straperso Con un nasus così Hanno straperso Hanno straperso Camillo, Camillo Occhio che ti vuole scattare addosso Guarda, guarda, guarda Guarda, guarda Bravo che E' mio Hai mancato Però lo faccio io Ho provato a lasciar te L'hai vinto? Non mi dire che ho stirato Non mi dire che ho stirato Non mi dire che ho stirato Ti ha guardato però Porca miseria Piuttosto che andare a cercare la kill Perché non mi aiuti Ma perché tu sei jasso Dovresti scattare tutti Ma perché tu sei jasso Dovresti scattare tutti Allora Non mi aiuto Toll' con la velina che tornerebbe invisibile Per esploderci tutti E ti ti ammazzi il resto Non mi aiuto E' un po' Non mi aiuto Non mi aiuto Per esplorare Non mi aiuto E' un po' E' un po' E' un po' Per esplorare Presa Camillo Camillo Morgana Blocca tutti Penso io Vabbè se sono ritroccate Camilla Vabbè vincete Comincia la festa Basta Bastarda M***a quel raga Tranquilli quella ce l'ha con me Zappa Morgana Bella Bravo Peppe Zappa Demite Sto arrivando Sto arrivando Bella Peppe Bella Peppe Ehm possiamo andare Tu sei il più fotti C'è il più fotti C'è il più fotti Ehm più bello Ehm più bello Aaaaaah Quando faccio le fotti Aaaaaah Pende che le Fammi una pende che le dirò che sei forte Facciamoci il barone Finecchietti Serie di uccisione Nooo Quadra Non si sa ancora Non si sa ancora Non la colpire Non la colpire Fagliela ammazzare in più Ehm C'è il specchio del drape Camille Vai 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 Cuc Eh caccatroia Mi rallenta No Camille non ti andare inutile Ti rallenta un po' alla volta Che rallenta la banana Grazie Grazie Arrivo Camille Vieni dietro il mio muro Vieni dietro il mio muro Vieni dietro il mio muro Doppio uccisione Doppio uccisione Doppio uccisione Aaaaaah Ma che c***o Uuuu Che goduria Va bene Fatti le torri per favore Grazie Sono morto Una Q Ti ricarica la visita Ehm tutto pensato Tutto terno Va bene Incompiamo le barne Vabbè dai chissà Vabbè dai chissà No 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 Adesso non c'è Evelina Eh wow Evelina Poverina Peppe andiamoci Bella Peppe Peppe quando colpisci con la pallina Ehm Ehm Mi devo scappare Eh però veloce Vabbè No 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 Fallo scappare No 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 Deve migliorare Miglioramento Guardate Malestra Puffo Io ci sono al top Sono troppo forte Boh Ma sei il feeder di questa squadra Ma smetti C'è velina qua a sinistra Dove? Eh c'era Ora non lo so dove Ehm Ehm Dove ho capito Ma io ho tutte le luna L'ha preso? L'ha preso? L'ha preso Ehm Non mori per tutti gli accettati Ehm 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 No Camillo Ma qua non esco Non esco Si non esco Perché mi ammazzano Perché mi ammazzano Non c'è una faccia di tutto Sì Mi ammazzano un po' Va bene che ho 300 stacke però Ehm Edge of the night Ehm Ehm Ce la facciamo fare Ehm La torre più consumata è quella lead Quella bot proprio è pulita E a chi c'è stato bot? Ehm Io Che ho messo Che ho messo Ma ho messo Vado Nessuna Pietà Bucheata quel drago Sbucheata Vai facciamoci barone Ma non fare il c*****o Asce non merita eh il mio tormento la scoppiattiamo a noi quest'asce eh 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 asce sono sbagliato ma che cazzo di te lo fa quest'asce di merda eh eh asce può corrarla? che cazzo ci fai già lì? c'è qualcosa? dopo che cazzo? che cazzo? sta nell'earthborn inveggio no migliorativa ciao ma che cazzo? è esplosato è morta Vabbè dai andiamo a vincere, facciamoci l'inibitore centrale No, fatevi il coso Puta che millo No, è un'emica Ha scesi staccare, stiamo giocando a Mickey Avevamo quasi vinto eh No, stiamo perdendo perchè scendiamo una alla volta e moriamo Non eravamo muri Eravamo tre amici al bar Si camminavano tre ma loro sanno asse E hanno il tank Ave io non ho attaccato nessuno Mi attaccavo l'inibitore No, non ce l'ho con te Ma noi siamo morti perchè io non attaccavo loro Attaccavo l'inibitore Il Nexus Se attaccavo loro magari qualcuno lo portava Vabbè dai Sto malfile però Oh, non possiamo incontrare che mi arriva quello Devi fare quattro persone contro Ma li stavo ammazzando Ce ne avevo due, che ammazzar Tutti quanti qui Tutti quanti qui Tutti quanti seguitemi Ma smettila solo io ce la faccio Ci abbassa e ci abbassa Io ce l'ho fatta, ho fatto una quadra No, stai andando in rage In rage Se vuoi vingere vai toff Camillo, Camillo, Camillo Insomma dal bar hanno tutte e quattro Mi aspettiamo D'abbiamo un po' Guarda che chi Quanta armatura ha Ma chi? Malfite, lui Malfite è da me Ma che devi fare proprio lì? Non c'è Ma la PC ci serve Che non esiste Cominciamo? Ma che comincio? Dov'ho andiamo? Dov'ho andiamo Ma perché mi hai fatto andare la barna? Perché non l'avete cominciato? Ma che cominciamo? Ma fatelo Siete guardo? Bene, lascio scoppiamo Ora c'è il Malfite invece Entriamo? Sì Oh Gesù Io sto entrando Ma siete il resuscita Va bene, ciao ragazzi Vi voglio bene Ops Ma è da me? Hai presa? Ho presa la copia Ho sbagliato Sono visto? Sono visto? Sono visto qua Andiamo tutti quanti uguali Camillo Perché sei da solo? No, Corrado? No Sì No Sì Certo No È da tutto No Oh Grazie La mia roba Thank you Stira Ti ho salva del culo Lux Questa Ti ha rotto? Sì Ti ha rotto? Vieni Facciamo questo lontitore ho fatto vincere grazie grazie allora io onoro kane e report luke allora gli metto comportamento negativo abuso verbale partita badra tuff aspettano ingitamento all'odio perché nessuno a me perché ne ho due ho preso a più sono quello che è morto di meno in tutta la partita non ho fatto appendere tu a più io ho preso a non ho fatto appendere a tu io ho preso a più ragazzi che basta parliamo dopo ragazzi io ho tempo di fare un aram perché poi devo andare a lavorare il tempo di fare un'altra tu sei lane quindi proprio sei scarso birra ah scusami se sono dato scarte questa notte un'altra birra no non è che sei stato scarso sei stato nettamente inferiore a me no ma per il resto va bene vabbè lo vido ah però il darken è più forte questo proprio lo massacra giusto leggendo però che cazzo di potete aram ma perché è aram che schifo è aram mare me ne devo andare arambù mi piace no non lo voglio dammi questa cosa fuori ti è un pezzo di merda usa il dato è lì è lì madonna parato da me non ce l'hai molto bene siamo tutti felici cosa siamo tutti felici abbiamo i personaggi che ci piace ma grazie eh se lo vuoi ma grazie damiano ma così mi sta bene prego ecco adesso ci siamo 4 petene pezzo da cane dì dì infame 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 fai testate cazzo io ho fatto dei soldi che farmi vado ad entrare però non continuo bucherà dalla montagna cosa la minchia ah ma damiano lo senti questo no no concentrati no e perché ancora la squadra resiste detto oh oh fiona presidi oh 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 mi piace sì ci piace mi piace assai io volevo scombrare la skin mi l'ho ombrata la minchia oh secondo me abbiamo perso però eh minchia si può essere cioè che cazzo ci hanno però non hanno tank non stiamo scherzando e vabbè vedo adesso mi faccio l'ultima su tutti ah beh io mi faccio super tank ebbiano r vado io cosa cominciò con mando il commento del sole con il fiore il fiore non il fiore segna d'amore non è vero, non è vero, non ne ho detto questa cosa perchè io sono allergico quindi non è una cosa buona in che sono tutti quanti a tutte cose fa pure il rimo si però te lo stun e sbagliai sono convinto che fosse lo stun ma dove sono io ma adesso sono io oh Gesù vai 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 dimmi coraggio prego come la pasta pomodoro pomodoro a parte che sono già morto non posso morire altrimenti questo è Kenshiro e niente non non è non 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 è che è appena c'ho l'acqua ogni 3 secondi il momento è giusto dopo sembra nel cespuglio non lo avevo sparato perchè non ha fatto danno eeeh non sei bravo mamma mia madonna ho missato hai visto che con gli attacchi basi ti curi con gli attacchi basi ti cura? ogni tot è la passiva ogni tot ti curi se devi fare un romantico che mi devo potenziare? un po' cazzo, perchè? ok senza pieta pieta? si vuoi che te li piglia tu cammino non te lo dico bravo e ancora livelli che cazzo faccio? ma niente ah, ti voleva andare volevi grazie grazie a me ah, però devo prendermi le vite no, non tank non tank voglio bene, corre ciao ti lovo più dell'uovo Questa è l'acqua, eh? Tutta l'acqua, eh? Teniamo! Levate i Minion così posso mirare bene! Che vuole, va! No, non mi vado, va bene! Grazie Damiano per questa doppia uccisione! Ho visto che ti sei fatta amata! Bravo! Ti ha Camillo, c'ha l'occhio fino, eh? Eh, eh! Ammattelo! Bravo Corrado! Che fai? Che fai? Che fai? Che fai? Che fai? Corrado, ti devo prendere a pugno, lo faccio di venire! Shhh! 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 Adoro la mia ventetta! Che fai? Non lo devo! Alla final sì, alla final, fatele un'uscita! Giusto! Ahah! Ahah! Che penso io ragazzi! Eh, 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 eh! Eh, così bella! Che hai fatto, eh? Che cazzo? Spendo, volevo fare! BOOOOOOO! BOMBEE! BOOM Grazie ragazzi Oh via Via Oh Oh guarda che ce l'ho Inserila Io me ne aspettavo queste cose Io devo tankar Perché no da me C'è una cosa dalla vita là dietro Comunque prego per averti bloccato tutti Grazie non lo vuoi complimenti Damiano, veramente no no, vero? no no, un blocco ora basta ora basta perchè non lo capisco il problema è che loro non sono morti e non lo possiamo fare morti aiai il team è livello 6 è un problema una Marta non c'è troppo rotto nel Draven, che occhio fino che ha come serafino mamma mia cazzo ora entro molto curiamo tutti ad aria e va tutto bene io ci mi cura, non ho capito tu curi ad aria si, domani tutto a parte quando vai guarda dai che fai esce? muori così è detto così pare rallentato sto entrando madonna a che è? vieni qua ragazzi avete preso un po' di fondo lo ho preso io prai fatto apposta sei molto bravo che è un bacio bravo ultimo però sarà un problema perchè non lo legge mai no ci dobbiamo comprare il coso ci dobbiamo comprare la pozzetta un secondo guarda ok bravo che è sta pozzetta? la pozzetta però la devo portare le cose fisiche come si chiama? pozzetta il posto è 300 non mi ricordo è un basso quando? 300 scusa 5 minuti quando? eeeh bottiglia caraccato ma potremmeno ingarabiglia forza e che è sta situazione? vabbiamo riprovo la tenda soldi soldi ma io voglio che push non pushiranno mai non pushiranno mai ok grazie oh pensate vanno inserirla nel timo inserire che scudone tutti fisici tutti no timo no eh ma c'è la cosa c'è giusto per recuperare vita no io voglio buttarmi in mezzo a stuprarle tutti non ti riuscirei mai questa partita così no nei confrontati sono troppo vicine facciamoci spaccare una torre spaccavo io una torre forse vuoi che mi sacrifico però bisogna spugnare di morgana dov'è morgana? vabbè rubarsi la vita ma se sei full hp che ti prendi la vita? ah stai zitto c'è il suo segreto ah io io sono con morto stris spaccavo la torre aspettavamo la torre aspettavamo la torre madonna che danno che fa il team c'era anche un po' di torre beh corrado tu te la senti di buttarti tutto? no io si io si io se ti butti tu ti seguo ah andiamo vai andiamo basta un paio di colpe alla torre poi c'è draven che è fisico minchia però abbiamo fatto più danni che perdite si danni a noi stessi che allora no scusa ma quanto dura? ma quanto dura? damiano ma che specchio fai? ma quanto dura? fai una pentakill e poi ti lo vieni qua ma ma scusa tu un'ora e mezzo o di più? vabbè damiano dai sembra tu si sembra tu si sembra tu si damiano onesto a me mi sembrava quello che era un altro invece sei sempre tu aspettiamo lì dentro adesso è sempre così ma hai visto come ho scappato? vabbè direi è uno scapping è uno scapping? non ha capito che busto di mine perchè mi butti mine? monello non ti servo era nel mio forno perchè ti prendi le cose che mo? metti la sono i miei bustoi entro come una troia? scusa da tabu è corretta questa cosa ok ok attenti a drauman ma tu canalizzi così sei un foglio va bene va bene va bene va bene va bene oh vabbè va bene va bene va bene ma va bene va bene qui è la guerra mancato vai fuori là in mezzo bravo guardate ma come ha fatto il silo il manavento un po' di danno idro no la mannaia non è idro titanica Segui io quello sapro ninja Dalmatura sapro ninja Sexy Ma l'ultimo corpo Unsexy vien da 9 Quello stato? No Quando col tu hai soffo? 3500 Lo muerto solo E porca merda Vai via entriamo Entra Entra Ela E muore No timmo Mi Ciao a tutti Ciao trener Ma io non lo so comando la bozza Ma io ci sono scusato Ma io ci sono scusato Ma è suicidati dai Addio salvo Fatica Ma è vero Andiamo via retto Semplicemente entrare Stiamo indietro subito Lascio stare a tenere in moto Non di prendere le vite Ma io è babbo Sto morendo qua E' per qui Sto no E che sei tu? Si Di S Tri Di La mia volta che ammazza qualcuno E' forte l'esplosione dello scudo Ne vede per cinduali E poi il fungo c'è, ma lei c'è! Ma che è matto? E' matto! Sto arrivando! Vi aspettate! Non vincete ancora! Vi prego! Vi ha evitato l'acqua con questo poppo! Aspettiamo Damiano e andiamo a coprire! Nooo! Grazie ragazzo! Il resto è turra! Cosa? Il resto è bellissimo! Oh no! Sì! Bravo a Morgana! Che è Peppe! Oh mio Dio! Faccio un fungio, attento! E' qua! Qua dove? Il scudo di Morgana lo prendete! Ma perchè il target è a me questa terra di merda? Che sei FIDER! Questa è la mia cosa? Vedi per te! Vedi per te! Ciao team! Come ho fatto la giurciata? Io sto attaccando il necchio! Mi mamma! Non mi mamma! Non mi mamma! Ho fatto anche spedare il gioco solente? Qui sì! c'era da da laura e l'altra arama camillo eeeh vabbè allora si monsignano visto potevamo fare una normal mad no ma ci facciamo un'altra arama allora io non ho due no io non ho due per te 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 chi è camillo io ho preso 9 e più a più a meno a meno a meno io non lo die sono schermata nera o no damiano quindi madonna quel damiano che con che danni 28.000 ha raccobbietto tutti io ho fatto che danni si fiora grazie te lo faccio però ma io sono late oh ma mi sta piacendo giocare le 5 contro 5 però e minchia vuoi mettere le 5 contro 5 chiusiamo e ci divertiamo ci siamo che moriamo dai accettate che non accetta e pupo proprio oh cazzo non l'ho accettato eh beh beh lo sapevamo che non accettato che non accettato io oh e basta sta schifo questa cosa si mette la gente e ci prova e poi se ne prende subito no è perchè vedono me è quello è quello è quello è quello guarda l'unico 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 è il che vuoi che vuoi che buco ma guarda 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 i Goliath guarda no lo voglio io la porta è come il vento il vento è come la porta sempre al mio fianco come la moto la moto è come il vento e salvo non ti azzardare a cambiare il toro eh a cambiare? a cambiare il toro come si chiama? ma no lo voglio il toro bravo e c'è ciao ciao tuo amore per la figa si ha annabbiato il cervello oh Damiano è il mio qualche personaggio che li butta ancora a fidare pezzi merda di Damiano pezzi merda di Damiano pezzi merda di Damiano pezzi merda di Damiano mi senti? si certo dimmi stasera ci sei? eh non penso o per lo meno nooo no non viene Peppe vecchia poco vabbè basta non ti volevo più basta a tua casa e la gira che fa lo sai perchè? no lo sai perchè? perchè ci piace no un secondo da soffrire il naso ci piace Uzzu? i zandepossi Uzzu? voi lo conoscete cosa Luis Ck? no è un comico Camillo guardate i tuoi video ieri mi sono visto un'ora di un di barzelletta vabbè ti racconto suo mi sono collassati tutti e due i polmoni e quindi ora segui i polmoni artificiali? eh si minchia Cristiano come si usa Queen? spiegatemi ma io è stata prima vuori quanto sangue mi fai quella skinna di Siviron? ma che cos'è che c'ha le minne compressere? che deve fare quella cosa Nikit no no quello mi viene infatti ma la coscia ce l'ha disegnata a coppola di minghe si va bene sono adatta per concepire un bambino si è forma di perla di quella Damiano pensa a questo salvo sei pronto? no tutti in aria? i nani che spacchio ora due minuti di silenzio che devo leggere perfetto è fatto è quello giusto ahahah via vedete piano che cosa vedete peppe con con Queen sarà fortissimo leggitela peppe che importante eh madonna che schifo madonna che schifo allora che cazzo fa questo? conviene col culo perchè? ah minchia c'hanno i merdinger abbiamo perso abbiamo perso abbiamo vinto ci sono io ma che è sparata londano questa? eh insomma quando ci sono quelle col mirino se gli schifo fai più danno ma spari piccioni? anche che sta succedendo? se non ci sta capendo un cazzo bello che fa sto saltando questo senza skill sto saltando lì su vieni vai che masterì? ne fa ammazzarli e fai che fai e non faccio ammazzarli nooo chiamata figlia l'ho fatta crescere che cazzo? sto cagando posso fare un gatto questo bg ma stunna tipo così no no la mia è la mamma bella quella erbe quando non ce l'hai cosa fa la mia no sei indistruttibile per qualche secondo peggio di 30 con chi con il coso che fa aumentare il taglio con la mamma ma non è una faccia importante sempre va bene bravo bravo sempre il migliore madonna camilla mi hai salvato la vita lasciatemi quella vita ma io spingo per caso non ho capito un gatto io spingo ma che è scuro e ritira un falco oh no qualcuno ha scadato l'ulti sul mio scooter allora aggrada Non lo porti, non lo vedi Vai attacca, guarda, non ce lo fai 100% critico ragazzi, pronto a te? Non so' usare questo per se ganci No boh, perchè ancora non sono tutti in aria? Eh boh Eh, preoccupato Uno solo no, tutti Bella coraggio Grazie C'è vita là Peppe C'è vita offre la morte Sì ma non lo so usare, questa cosa non fa danno Sì, non fa danno Non fa danno, madonna Non fa danno È un VG fatto apposta per fare danno, ma danno Vai 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 Ma che stai? Madonna sanna dove cammello Ma che stai sotto? Ma chi? Ma chi? Ma ma chi? Ma chi? Ma chi? Ma chi? Ma chi? Ma cosa? Ma sta fatto 5 volte? Eh 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 Allora fai spina il capito? io cerco lo so fare, se te pare e ora non te pare, che sì e ora io no, io e le liger ve l'ho buttato oh, Peppe tu fai bene, andiamo via qui la mia notte, ehi no, Peppe, lo salvo ehi ma che cazzerai, ma la semi hai visto la coppia è la tua, che non vuoi saltare mai nessuno l'avevo già fatto saltare dopo la parte del cielo che è vero, l'ammazzano di tutti sotto la base vedi, stilato dimmi quando ti avinci la va di piatto 13 secondi quanto? 15 dai, io ti potrei mi butto su quei due fatti osceni va benissimo 5 posso volare? finito pronto? vado? vado 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 la pop no, che sei fatto? vai che è matto ma è il crazy horse come vedi crazy horse? sto stilando sto stilando mi addoniamo vola vola con l'aquillone vola che cazzo devo fare stiamo cagando grazie bravo invece no ma come lo sono mostrato? nooo 50 ht cerco io ho fildato però sono fildato quindi fildiamo fildiamo no dai il pdf insieme peccato perchè sarei entrato molto cattivamente entra corrado entra temiano dimmi se ci sei io ci sono con ulti anche però devi prendere almeno 3 almeno 3 vai vai quanto tempo? quelli la booo io non capisco che cosa è che mi fa così male intanto il danno ad aria ah no quello ha fatto il buzz dell'invinino finchiamo ma vado e si vittima che puoi dire ho fatto una tripla così zi pizi saltiamo addosso vai ok ok no no camillo ho premuto l'acqua ma non mi ha dato che vuoi uuuu uuuu mi aiuta sempre è l'unico vero bimbo bravo dove attacca? come fa aiutare? mi ha fatto leal tu mai l'hai fatto mai leal? che cosa hai fatto? se non lo so fare leal non lo so fare leal porca troia che cosa hai fatto? che cosa hai fatto? dai dai ci sono domani ti sei evitato però la final di invadinger siete morti? siete morti siete morti ci vado io ci vado io ci sono di nuovo? sì vabbè è l'ultimo non è l'acqua come cazzo sei morto? dai le corrette che rimangono dai chiateci un'uoto non è successo niente non vedo no c'è si vero attenzione nooo grazie grazie non c'è no non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è mi sta capendo che ti ho scappato la vita tu pensi che io sono bastardo? mettiamoci qua tutti fermi qua appena sono tutti vicini salvo fa combo e io faccio combo vicino il moto vicino mi sono vivante alla lomba vicino il troppo vicino conviene mi tengo a dare il topare dito mi sono da mia costitività non c'è che non va non c'è che non non c'è che non non c'è che non non è ora io arrivo portando su uccisioni scoppiamo non c'è più fuente ah non è andato senza neanche via via oggi sono un velo pennello adesso dove ti buttando le patti delle torri che cuoooooo non c'è più non c'è più per un po' vado in un po' si si booo io non c'è più nooo fai i spinge indietro non è vero perchè il tuo è dodd dodd non muore rive è dead tu sei pupo pepe perchè sta dipendo la vita se non mi hai tutte le ulti di quel pupo le fatte grazie a me e da solo non ce la fa a farsi ah ah quella è sempre la prima damiano vini vicino a me damiano vini vicino a me arrivo dimmi che ce l'hai ce l'ho eppure grosso ce l'hai ce l'ho mi fate fare una pentagon pepe ma no tu pepe è massimo dimmi quanto non puoi attaccare andare non ci sono non ci sono madonna madonna che sono belli messi la porca miseria ce li ammazza tutti corrado vai vai ma che non te la lupa corrado ho la piccata ma al pezzo di me tu come era un estile le ho uccisoare come c'è che mi sta colpendo l'ho aperto io io tranquillo ahah la foca è uscita negli amici balliamo balliamo tutti balliamo tutti che balle la cucaraccia balliamo ma che è questa cosa pura guarda la torre eh dov'è la torre? a me non ho una torre torre torna indietro che cazzo li salta affatto? oh mi aiutate? no l'abbiamo vinto no grazie per te ciao nooo per sì mi ti aiuto così vedi vivo? ah quasi quasi poter comprare un genio per essere tutte queste strutture che mi ha regalato allora io onoro Doha Doha onoro a Corrado Corrado onora salvo ma perchè io mi metto i fischi a parte dicendo e salvo non ha Damiano e Damiano non ha me no Doha onoro a me io non ha Damiano 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 e per questo lo faccio io perchè così ci organizziamo no tutti ho Damiano ragazzi no no anzi che vado ci rivediamo dopo cena buonanotte buonanotte ciao 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 ragazzi si si andrà a me ciao salvo ciao salvo e vai e vai e vai perchè vai non presi tre eheheheh che ha fatto più schifo di tutti ho ammazzato zero e sono morto tre anzi tre morti sono buone ma ora io mi abbessò mi chiudo ma vai tutte le cose cioè quelli adesso stanno vedendo Doha è il più onorevole della squadra certo ma chi ne entra veramente? sì sì anche se si si l'euro è un'esterata è ok ho